Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source Appuntamento settimanale con il riassunto di tutte le notizie che sono state postate sul blog da me e dai miei amici Puntata breve perché non ci sono state molte news postate questa settimana Cominciamo con la prima notizia La prima notizia è stata l'aggiornamento di Ubuntu Tweak alla versione 0.8.7 Che ha aggiunto finalmente il supporto a Ubuntu 14.04 Ovviamente la guida su Ubuntu 14.04 è stata modificata e adesso include anche il repository per poter installare Ubuntu Tweak Novità di questa versione principalmente appunto il supporto a Ubuntu 14.04 E l'inclusione della funzionalità per attivare il minimizzo tu click Quindi non c'è più bisogno di installare il Compix Manager ma potete farlo direttamente da Ubuntu Tweak In settimana poi ho passato una piccola guida per quanto riguarda un programma per sfruttare la propria Chromecast Come ben sapete le applicazioni di terze parti non sono poi tante e molte sono però più inutili Però fortunatamente ci sono alcune applicazioni di terze parti che funzionano e fanno egregiamente il loro dovere Nelle scorse settimane vi ho parlato di Videostream che è un'applicazione di terze parti Che è praticamente un'estensione per il browser che consente di produrre i filmati sulla propria TV Con il catale Chromecast Questa settimana invece vi voglio parlare di EZcast EZcast nasce come applicazione per Android, per gestire EZcast La icone diciamo così cinese della Chromecast Col tempo poi è stato aggiunto il supporto anche per Chromecast Grazie a questa applicazione che cosa potremmo fare? Potremmo fare tante cose Potremmo riprodurre foto e video presenti sul nostro smartphone o tablet E sulla TV connessa con Chromecast Potremmo ascoltare musica Potremmo visualizzare i documenti Cosa molto importante C'è un visualizzatore di documenti integrato Che consente di riprodurre file di testo Fogli di calcolo PDF Possibilità di introdurre delle note al volo Modi evidenziatori utili per quando facciamo presentazioni e cose del genere C'è anche un servizio di video cloud E c'è infine la possibilità di visualizzare Tramite sempre il browser che è integrato Le pagine web a riprodurre sulla propria TV Non è il massimo come browser integrato Però questa applicazione praticamente Consente di fare tutto quello che non possiamo fare con la Chromecast normalmente Su Android Un browser agli sviluppatori Speriamo che le prossime versioni migliorino le performance Perché comunque c'è ancora qualche piccolo problemino Perché non è proprio immediato allo stream Però rispetto comunque ai concorrenti È molto più veloce dei concorrenti Per quanto riguarda appunto il passaggio tra le foto e cose del genere E poi è a prova di bambino Mio nipotino lo utilizza per streamare le filmatiche Con il telefonino e cose del genere Quindi foto l'altro giorno si è messo Riesce anche Grazie a Gricone che sono molto semplificative Lui a 4 anni Già sa dove mettere mani per poter riprodurre i contenuti Vincenzo poi in settimana Ha fatto un piccolo post su un gruppo musicale Netcat Che ha rilasciato il suo nuovo album Chiamato Cyclos Seagless Per Extraction Ammazzatemi per pronuncio inglese Praticamente cosa ha di particolare È possibile comprare a pagamento Su cassetta Tramite download digitale E gratuitamente come modulo del kernel Linux Bene sì È stato rilasciato come modulo del kernel Linux Notizioni della settimana È stato l'annuncio ufficiale Della commercializzazione Della One Plus One Lo smartphone prodotto da Cyanogen Inc La società fondata da alcuni membri Della famosa rom Cyanogen Mode Pronunciatele come volete Ho fatto un piccolo post ironico Su come si pronuncia questa rom Particolarità di questo device è che è un Praticamente ha delle caratteristiche top di gamma Con CPU Snapdragon 801 3 GB di RAM Ha comunque una fotocamera anteriore Da 5 megapixel Una posteriore da 13 Della Sony Batteria da 3100 mAh Bluetooth 4.0 Due versioni 16 GB commercializzata 269 euro Ovviamente non c'è possibilità di espanderlo E la versione più interessante Quella da 64 GB A 299 Peccato Peccato che Nella fase iniziale Questo smartphone Ha un modo di essere commercializzato Alquanto bizzarro Nella prima fase C'è il concorso One Plus Smash Che praticamente consiste nel rompere Alcuni device Che sono Che sono presenti nella lista Di romperli Fare un video E sperare di Arrivare nei primi 100 Selezionati Per quanto riguarda Originalità e quant'altro Per poter poi acquistare Lo smartphone A prezzo simbolico di un euro Nella fase successiva Comunque Verranno commercializzati Anche sotto altre forme Nella seconda fase Tramite inviti Di quello che hanno distrutto Il proprio device E poi Appunto in altre forme Quindi Il problema qual è? Il problema è che Molto probabilmente Per la commercializzazione Al grande pubblico Che ricordo L'Italia è uno dei paesi scelti Ci vorrà tempo Molto probabilmente Si parla di Dopo l'estate Settembre Ottobre Comunque Un periodo di tempo lungo Perché Parliamoci chiaro In questi periodi di tempo Nei prossimi mesi Di sicuro Verranno Nuovi smartphone Della concorrenza Che Potranno far dimenticare Questo device Se non altro Nel caratteristico E che nel prezzo Non penso Visto che Il prezzo è davvero Molto invitante Molto basso Perché È proprio poco Mark Shatterworth Voi ha pubblicato Il nome e il codice Della prossima Relays Di Ubuntu Ubuntu 14.10 Si chiamerà Utopic Unicorn Quindi Unicorni Per tutti Ci ho fatto Anche il piccolo post Come di consulito Che poi È praticamente inutile In settimana Poi ho lanciato Un piccolo contest Con premio Assolutamente nulo Se non altro La mia gratitudine Voglio realizzare Voglio Sono da mesi Che sto cercando Di realizzare Un nuovo logo Per Marksbox Perché Volevo cambiare Quella scatola Volevo cambiare La scritta E quant'altro Ho fatto quindi Questo piccolo contest Se avete idee Suggerimenti E quant'altro Per quanto riguarda Il logo Realizzatelo Allegatelo Rispondete Con un commento Sulla discussione Fatemi sapere Fatemi sapere La vostra idea Fatemi Fatemi vedere I vostri lavori Come vi ho detto Ovviamente Non è un contest Retribuito Avrete soltanto La mia Grande riconoscenza E metterò Poi nelle note Un rimando Al fatto che Voi siete gli autori Di questo Nuovo logo Ne sono già arrivati Parecchi di interessanti Continuate a mandarli Che poi Facciamo Nella seconda fase Penso Molto ovviamente Di fare Una specie Di votazione Online Dove Tutti quanti voi Potrete votare Il prossimo logo Quindi una volta Che sarà Terminata la prima fase Dove Voi proponete i luoghi Poi Sarete voi stessi Anche A votarli Non fate scherzi Come quello lì Che hanno votato Actur Andate via Poi Cercate sul web Bambina Actur E cose del genere Troverete Una notizia Da scompicciarsi Da realizzate Sesta puntata Poi del Marcosbox Aio La rubrica Di Stefano Dove ci sono Tutte quelle notizie Che non sono state Postate Su Marcosbox Perché non riguardano Strettamente Linux O perché non avevano Non c'era voglia Di farci un post Dedicato Tante le notizie Una che poi Ho suggerito io Allo stesso Stefano È che Il Google Cultural Institute Il museo virtuale Di Google A riuscire Una pagina Dedicata A Osamo Tsuka Che è sempre Una parolaccia Ma non è Che è il famoso Mangarca Celebre per aver realizzato Kimba Stroboi La principessa Zaffiro Per citare I più Famosi La pagina È visualizzabile Sì in inglese Che in lingua italiana C'è poi anche Un interessante Rimando Al progetto Novena Quello che Di cui ha parlato Stefano Nella scorsa settimana Che sono state aggiunte Altre schede hardware Poi vabbè Andatevi a leggere Tutti quanti Sennò Ve lo leggo tutto quanto io Poi lo leggete Il post Sono stati Poi pubblicati I vari video Realizzati Di Enrico Conosciuto come Il nickname Maglietta Bianca Come le distro Gestiscono I repository Che sono Dei video E dei sketch Realizzati Da Enrico Che in modo scherzoso Fanno Fanno Capire Un po' La filosofia C'è dietro L'inclusione Di repository Come vengono gestiti I programmi E quant'altro Delle principali distro Linux Ovviamente Si fa tutto Per i gold Sono state pubblicate Le prime due puntate Che erano Già state pubblicate In passato Ma le ho ripubblicate Per rialganciarmi Al fatto che Quest'oggi Verrà Rilasciata La nuova puntata La puntata 3 Completamente Inedita Quindi Ho voluto fare Questo rimando Alle prime due Anche perché poi Vi ricordo Enrico ha cambiato Il canale Quindi iscrivetevi Al nuovo canale Quindi ho bisogno Di un po' Di visite E conoscenze Come vi dicevo Quest'oggi Domenica Domenica 27 Verrà rilasciata La nuova puntata Quindi restate Sintonizzate Su Marcosbox Che potrete vedere La nuova Esigarante puntata Poi nella settimana Prossima vi anticipo Che ci sarà Anche una nuova Videorecensione Di Enrico Bene Con questo concluso Non ho soltato Nuga Non mi sono nemmeno Riduncato toco Perché sono 10 minuti Soltanto Ci vediamo La prossima settimana Sperando di avere Più notizie Perché questa settimana È stata Propriamente Proprio morsce Perché Un po' Io non ho avuto tempo Un po' Non ci sono state Grandi Grandi notizie Vabbè Gonga vita e prosperità A tutti quanti Mi raccomando Condividete il video Condividete i blog Shoutate Fate Conoscere Marcosbox Se potete Un saluto Alla prossima Ciao ciao